yuki a tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo tornati con un opening esotica torniamo in giappone torniamo con le collaborazioni belle ma ovviamente ragazzi prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto dei team stessa cosa ragazzi per junk store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese di yuki poi hanno anche one piece in giapponese insieme a tanta altra roba che potete trovare all'interno del sito ovviamente per tutti i due siti referral link e coge sconto sempre qua sotto detto questo cosa andremo ad aprire oggi ovviamente andremo ad aprire i pacchi di cocos per yuki o questa collaborazione è uscita lo scorso anno nel 2023 ed è divisa in due parti la prima va dal 16 maggio al 5 giugno e la seconda dal 6 al 26 giugno ovviamente poi la divisione non è casuale le carte che possiamo trovare nella prima ondata non sono le stesse della seconda ma quindi una persona giapponese perché noi queste cose non le abbiamo mai come poteva ottenere questi pacchetti si potevano ottenere solamente acquistando un menù all'interno del ristorante poi probabilmente sotto banco se ne sono venduti altre però il percorso ufficiale era questo e ovviamente si poteva ottenere o il pacchetto di yuki o o di yuki o rush duel altra piccola chicca molto interessante per ogni meno acquistato si potevano ottenere dei punti che potevano essere utilizzati per una lotteria online dove era possibile vincere alcuni prodotti esclusivi tra cui un tappetino che aveva raffigurato i due mostri esclusivi della collaborazione ed era limitato a 300 pezzi mi chiedo a questo punto quanto possa valere ora ma vabbè dettagli tornando adesso a parlare del set come già già detto qua dentro ci sono due carte esclusive mentre tutte le altre sono ristampe però hanno tutta una particolarità sullo sfondo ma andremo a vedere dopo a piccolo spoiler non andremo ad aprire i prodotti di rush duel perché queste carte mi facevano abbastanza sboccare ma so che me ne pentirò e più avanti comprerò pure quelli per completare il set sì probabilmente ci vedrete un reel detto questo andiamo a sbustare a to beccato t'ho visto che non hai lasciato il like e il commento ti dico solo che sblocchi un'altra collaborazione tra yuki o e qualcos'altro che non vi spoilerò bene ragazzi l'obiettivo adesso è completare il set perché non voglio andare di singole non mi va e quindi tilterei abbastanza visto che abbiamo sette pacchi della 1 e sette pacchi della 2 considerando che il primo set è composto da tre carte se non becco x volte la stessa carta va bene nel volume 1 abbiamo il mago nero il neos e lo stardust quindi se mi escono nelle prime tre godo perché le altre ovviamente non le andremo ad aprire ma vabbè andiamo con il primo visto che c'è una carta per pacco e vediamo cosa tiriamo fuori allora sembra messa bene dai 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 a questo punto va bene tutto 123 il neos ok diciamo che tra le tre è quella meno carina però diciamo se non esce 15 volte e escono anche le altre va bene tanto il set è da finire comunque volevo farvi notare una cosa lo sfondo è fatto in stile egizio per ovviamente ricordare la prima serie ma se ci fate caso c'è il logo e tutto il menù di cocos perché perché a loro piaceva è una cosa intelligente marketing diciamo che è marketing ok va bene e abbiamo la prima carta andiamo con il secondo pacco sperando di non tagliare la carta e vediamo cosa ci esce io sono sicuro 100 100 che esce un altro neos sicuro come la morte usciranno solo neos io faccio questo predict allora andiamo con il terzo per favore yugioh non farmi odiare la mia vita dai uno stardust uno stardust ok ok ho visto mosso normale per un secondo mi son sentito male però ok abbiamo anche il mago e 2 su 3 ce li siamo portati a casa guardate quanto è bello con quel menù sul retro e ok 2 su 3 ce li siamo portati a casa adesso andiamo con il terzo e speriamo no cioè andiamo con il quarto e speriamo di trovare lo stardust perché perché vuol dire che gli altri non devo aprirli 1 2 bene lo stardust ce lo siamo portati a casa bello pulito è lo stardust più ignorante mai fatto con il menù dietro come minima una piega dietro e ok però sembra perfetto top il primo set lo abbiamo completato adesso ragazzi è da capire cosa fare con questi ultimi 3 perché ovviamente non li andrò ad aprire probabilmente o li metterò sul gruppo telegram o li metterò su car market adesso vediamo nel caso per telegram trovate il link qua sotto in descrizione allora adesso andiamo col volume 2 che all'interno può contenere utopia lo dice firewall e una delle due carte esclusive della collaborazione perché l'altra è quella di rush duel che ovviamente non abbiamo vediamo perché ho deciso di non comprare qui pack un po rosico probabilmente quella non uscirà neanche se mi faccio santo però vediamo capiamo allora andiamo con il primo io me la sento sta qua sta qua è proprio qua dentro è proprio questa guardate utopia ok utopia è la numero 4 quindi per adesso abbiamo 1 2 3 e 4 non capisco se mi piacciono o se so ignoranti cioè sono talmente brutte cioè l'idea è talmente stupida che fanno il giro e diventano belle cioè non so se ci capiamo andiamo adesso col secondo ci manca lo dice il firewall e la carta esclusiva diciamo che è più la carta esclusiva che mi preoccupa proviamo a fare il miracolo proviamo a fare il miracolo niente utopia back to back e dai lo sapevo come il neos io la seconda non devo mai aprirla non devo mai aprirla lo so abbiamo 5 pack e 3 carte da trovare quindi teoricamente teoricamente è fattibile per adesso poi ne riparleremo quando mancherà un pacco e l'ultima carta io mi incazzerò come una bestia allora dai non un'altra utopia non un'altra utopia ok ok è il firewall è il firewall col menu è il cazzo di firewall col menu e quindi va bene va benissimo questa è la 6 quindi ci manca la 5 che è lo dice e la carta esclusiva per favore per favore non fate fa che non sia short print fa che non sia short print o teoricamente i giapponesi non le fanno ste cose è proprio una cattiveria dai dai è la cazzo di carta esclusiva per cocos ma che cazzo è è un forno col coltello e la forchetta ok è tipo quando hanno fatto la collaborazione col sacchetto di patatine fritte che all'interno aveva la carta patata ok anche quelle recupereremo eh ragazzi piano piano si fa tutto controlliamo le condizioni che sono ottimali e adesso manca solo lo dice e sarebbe top tirarlo fuori qua o qua o qua ma spero qua così le ultime due le tengo da parte per favore per favore per favore per favore per favore per favore se sta qua conferma la questione che io la seconda non devo mai aprirla quando mi arrivano i pacchi con le collaborazioni lo sapevo lo sapevo la numero due non bisogna mai sbussarla e si gode l'abbiamo trovate tutte questa sembra un pelino più bellina rispetto alle altre perché ha tipo tutte le stelline intorno e quindi da più boh c'è qualcosa che mi fa apprezzare di più lo sfondo non capisco perché forse è quello bene mi posso ritenere soddisfatto e godo perché sono riuscito a finire il set senza dover sprecare tutti i pacchi e senza dover comprare le singole capiamo adesso che fare con rush duel altra cosa che dovrò tenere in considerazione capiamo quando farò il prossimo ordine al giappone detto questo ragazzi io vi ringrazio vi rinnovo l'invito a lasciare il like e il commento e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa collaborazione e se l'avreste apprezzata anche in italia o nel resto d'europa e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti